ciao a tutti ragazzi benvenuti ben ritrovati sul canale di acil milan inside quest'oggi parleremo di dati duelli statistiche della partita roma milan la partita che i rossoneri disputeranno giovedì 6 alle 18 e 30 a san siro contro i giallorossi di murigno ovviamente prima di iniziare vi ricordo di lasciare un like un commento di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che vi porteremo qui sul nostro canale in più in descrizione troverete anche tutti quanti i link necessari per i nostri profili instagram twitter facebook ed anche il nostro sito internet www.acilaninside.com partiamo con l'analizzare i dati di questa partita milan roma ricordiamo è un big match nel nostro campionato da da anni minimo da un ventennio un milan roma che ha sempre visto in campo giocare grandissimi campioni partendo da totti da batistudia per i giallorossi arrivando per ricosta cacace ucenco e tanti altri per per i rossoneri milan roma si è giocato al san siro per ben 85 volte venendo i rossoneri vincere 50 e uscire sconfitti 19 il pareggio invece è risultato presentarsi all'incirca 19 volte anche il numero di gol è importante perché i rossoneri ne hanno segnati ben 148 mentre giallorossi solo 91 c'è da dire che però negli ultimi anni visto anche il calo dei rossoneri san siro è risultato essere per la roma terra di conquista infatti i rossoneri sono riusciti ad alzare la testa contro i giallorossi solo negli ultimi anni rispettivamente con la vittoria del lockdown del 2020 del 28 giugno 2020 con gol rebic e gol cianoglu su calcio di rigore e poi la vittoria dell'anno prima dell'agosto dell'anno prima quando i rossoneri con cutroni riuscirono a portare a casa i tre punti sullo scoccare del 94esimo minuto nelle ultime sei uscite a san siro il bilancio per i rossoneri contro giallorossi è tutt'altro che positivo infatti nelle ultime sei uscite la roma è uscita vincitrice da san siro per ben tre volte il milan per due mentre l'anno scorso non è ben sappiamo anche se sta colmo di critiche la sfida tra milano e roma si è conclusa in parità per 3 a 3 analizziamo adesso quelli che saranno i duelli tra i giocatori di milano e roma partendo dalla porta il primo duello che vedremo affrontarsi sarà ruipatricio contro mike magnan entrambi i portieri stanno vivendo un'ottima prima parte di stagione anche se i gol incassati da entrambi lati sono un poco troppi non a caso ruipatricio in 19 match ha subito 21 gol tenendo la porta inviolata per ben sette volte mentre mike magnan ha subito 12 gol in 13 match tenendo la porta inviolata per ben 5 volte altro duello sarà quello tra i due difensori centrali delle due compagini rispettivamente gialluca mancini per la roma e figaio tomori per il milan entrambi stanno anche loro vivendo un grande una grande prima parte di stagione anche se in 18 e 17 partite rispettivamente sono ancora secco di gol anche se ricordiamo l'auto mori per noi tifosi milanisti quel gol nel derby nonostante l'autogol di devrai è ancora suo altro duello importante interessante è quello tra giordano veretù e sandro tonali giordano veretù a differenza dell'italiano ha avuto una prima parte di stagione un poco in calo rispetto a quelli che effettivamente erano le aspettative ma comunque è riuscito ad ingranare partite facendo 4 gol e ben due assist in 18 partite mentre sandro tonali in 19 partite è riuscito a segnare ben due reti ricordiamolo il gol su punizione contro il cagliari il gol contro l'atalanta e ben due assist come ultimo duello non potevo che metterci quello tra tamy abram e slatan ibrahimovic entrambi top scorer di roma nel milan in questo in questo campionato per quanto riguarda tamy abram l'inglese acquistato dalla roma dal celsi in 18 partite di campionato ha messo a segno sei reti e tre assist per i compagni mentre slatan ibrahimovic l'eterno il belgiamo in button del milan in 11 partite ha messo a segno sette reti e due assist non a caso ibrahimovic nonostante l'età ai 40 anni è tornato ad avere una media realizzativa pari a quella del 2010 2011 l'anno in cui vincemo lo scudetto per un gol ogni 100 minuti concludiamo questo video andando ad analizzare le situazioni di infermeria di entrambi le squadre partendo dagli ospiti dalla roma loro sono riusciti a recuperare il proprio capitano il proprio uomo fantasia lorenzo pellegrini che sin dall'inizio del 2022 ma comunque partendo anche dai giorni finali del 2021 è tornato regolarmente ad allenarsi in campo con la squadra per quanto riguarda invece i rossoneri la situazione un poco più complicata e delicata perché calabria come ben sappiamo è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo sin dall'ultimo allenamento del 2021 come possiamo anche aver notato sui sui profili social per quanto riguarda anterebic egli ha continuato col lavoro personalizzato in questi giorni e dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo a breve per quanto riguarda invece le aria di ibrahimovic la situazione un poco più complicata un po più da tenere sott'occhio le aria non ha completamente recuperato dal problema flessore e ma comunque sulla via del recupero pioli vorrebbe provare a spronarlo per averlo meno in panchina per la partita contro la roma in quanto risulterebbe essere fondamentale un suo approccio alla sfida contro gli uomini di murigno ricordando anche l'ottima prestazione offerta nel girone di andata per quanto riguarda slatan ibrahimovic come ben sappiamo egli ha saltato la trasferta di empoli l'ultima dell'anno tra un sovraccarico al ginocchio ibra non è comunque ancora al 100 per cento ma la sua presenza a milanello ieri nonostante il giorno di riposo dato da mister pioli fa capire quanto lo svedese è voglioso di tornare subito in campo infine pellegrì anche egli un po come leao la situazione incerta vorrebbero provare a recuperare il prima possibile ma comunque il problema che lo sta martoriano al flessore è un problema più grave del solito mi auguro che questo video possa esservi piaciuto possa aver risposto a tutte quante le vostre domande inerenti ai vari dubbi di questo big match che si ripeto svolgerà giovedì al 6 gennaio alle 18 e 30 a san siro ci vediamo in un prossimo video e sempre forza vogliaia